Ramificazione tripla La ramificazione tripla è un raccordo che suddivide in tre il flusso d'aria circolante. Si realizza mediante un condotto rettilineo Z e due curve rispettivamente di misure X e Y. Per prima cosa si sommano le misure esterne delle tre uscite e si sottrae al risultato la misura esterna del condotto principale che si vuole ottenere. Si divide questa misura C in quattro parti chiamate D e questa, a sua volta, sarà contrassegnata come mostra la figura dal bordo esterno di ciascuna curva e attraverso ciascun lato del condotto Z. Si taglia sulla linea contrassegnata nei condotti che costituiscono una curva X e Y. Le misure risultanti H1 e H2 sono traslate sulle linee precedentemente contrassegnate su ambo i lati del condotto rettilineo Z, tagliando in ogni linea 45 gradi su quel punto. Come per gli altri raccordi, prima di nastrare la figura, si uniscono le varie parti verso l'interno con colla Climaver.